Questo video è stato realizzato grazie al programma di EA Creator Network di Electronic Arts Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale Continua la nostra mini serie di let's play su The Sims 4 High School Years o Vita da Alice e Ali Prima di lasciarvi il video però vi ricordo di lasciare un bel like, un bel commento se vi sta piacendo questa serie di video Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e vi ricordo anche di attivare la campanellina per non perdervi tutte le notifiche Oltretutto vi ricordo che avete il codice Maruco attivo su Pampling Pampling vende tantissimi articoli a tema nerd, Harry Potter, anime e manga, serie tv, c'è davvero di tutto Con il mio codice Maruco avrete con i vostri ordini calze, felpe, tazze, cartoleria, le calze omaggio Mi raccomando ragazzi passate dal link qua sotto in descrizione, detto questo vi lascio il video e buona visione Ragazzi vi devo anche far notare una piccola robetta Le attività extracurriculari hanno tre livelli La prossima promozione è capitano di cheerleading Questo ragazzi è importante con tutte le attività Scacchi informatica, football eccetera Credo ci siano tre livelli Sicuramente ne hanno tre cheerleading e football Quando voi diventerete capitani della squadra sbloccherete diverse cose Quindi non manca troppo eh ragazzi Ci stiamo comportando davvero bene Oltretutto non iniziato Sole 22 Lei sta bene No amica mia mi devi fare i compiti Tipo instant Grazie Quindi ragazzi stiamo attenti anche a questo Per quanto riguarda invece la carriera Ovvero il part time Non so bene quanti livelli saranno Megasinfluencer credo sia l'ultimo Per assurdo dovremmo avere tre livelli anche con questa Ma su questo ragazzi devo vedere Intanto però anche lei sta bene Allora mi pubblichi la recensione Grazie Anche perché lei fra un po' avrà una nuova promozione Quindi perfetto 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 Vediamo un po' socialbanni Vediamo soprattutto cosa possiamo fare con i nuovi post Promozione disinfluencer Energica Certo E vado anche a mettere recensione di un libro Felice Perché ha letto un libro ragazzi La cosa che sto notando però è che abbiamo pochi follower Quindi Questo è strano Intanto mando lui un messaggio amichevole Dobbiamo far crescere un po' i follower Intanto però la nostra mazza ha finito i compiti Molto bene Si può esercitare un attimo? Sì Oddio La facciamo esercitare La facciamo mangiare E poi vado a fare una doccia Mangia cordog Questo lo sostituisco Così almeno abbiamo fatto tutto al 100% Perfetto E vado anche Eeeh Signori E vado a fare la doccia Signori è un guaio Ok Poi facciamo la pipì come la campionessa Vado Vabbè sono le due Quindi ho tutto il tempo di dormire Forse eh Va bene Mentre loro Lui sta bene E lei? Eeeh La mamma deve far tutto Usa E poi mando anche lei a dormire Così mi passa velocemente il tempo E passa la paura E all'alba la nostra lane va a lavoro Lavora sodo Così almeno Spero Dovrebbe arrivare con la promozione Vediamo un po' Eh no Ah Ok Lavorato così poco Beh carichiamo una recensione ragazzi Ci portiamo avanti Vorrà dire che A breve faremo tutto Ci uniamo a Max? No Oggi la mandiamo per conto suo Perché ragazzi Uno ha un sacco di bisogni Quindi a scuola sarebbe deleterio Due Perché voglio Che in realtà lei abbia Giustamente Anche un po' di indipendenza Il problema Ma sempre più fuori controllo Per aver vissuto la pubertà Ragazzi non avevo notato Poverina Intanto qua lo sostituisco La nostra Max Giustamente Dovrà Far fronte all'acne E anche i peli Probabilmente Perché ragazzi Sto notando che i peli Barba eccetera Io vabbè Lui non faccio fare la barba A lui ragazzi Da 80 anni Poraccio Dobbiamo far fare la barba Anche a lui Signori c'è un grado di attenzione Ora per i nostri sim Che è molto molto alto Quindi ricordatevi Anche di ste robe Radè Fateli Cioè per dire Perdonatemi No Adesso Con tutto il be Perché è triste Scopo della vita No 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 Non hai capito Amica mia Ah tu intanto vai qua Ora Cerca di ritrovare La passione E l'ha ritrovata Ok E qua per la paura Ragazzi No Io qua Farei di nuovo affidamento Sul nostro negozio di premi Che però Non possiamo permetterci nulla Ragazzi Devevo trovare qualcosa Di diverso Creatività Oppure atletica Devianza Famiglia Grande famiglia Felice Devo trovare qualcosa Che sia Meglio Per lei L'amore Romantica seriale Anima gemella Oh 245 Dai Ovviamente non bastano Invece si Rinnovatrice di desideri Via la paura Ecco ragazzi Non più noioso Pulsante a premere Ok Perfetto Questo ragazzi Introduce nuovi desideri Ma io questo Non lo voglio fare In realtà Qua intanto vai Però a fare una doccia Tanto Max Come va a scuola Si deve divertire Ragazzi si deve divertire tanto Quindi appena arriva Appena torna Faremo in modo che Max Cominci a giocare Oggi ragazzi è martedì Domani si va a scuola Dobbiamo iniziare a preparare Il cartello per Noah Per il ballo Però adesso che torniamo Da scuola Lei che comunque deve solo mangiare Ditemi che non deve fare altro Vi prego Tra due giorni Ok Valeria Va bene Qua intanto vado a mangiare qualcosa Cucina insieme No Facciamo un pasto veloce Con Ciotola di Akai Ok Poi Vai pure qua Max Perdonami Non l'avevo visto Correggi l'acne Adesso cerchiamo di correggere l'acne Qua stress per la scuola Ci sta Giorno scolastico Penoso Oggi in caffetteria Ha lasciato cadere un vassoio davanti a tutti Che imbarazzo Vedete Ok Vedete ragazzi Che quando voi non andate In maniera Attiva Comunque ci sono gli stati morali Della scuola Oltretutto Il ballo studentesco imminente Quindi si ragazzi Dobbiamo fare un po' di robette Lei che sta facendo Leggi il libro Si Facciamola divertire un po' Fatemi vedere un attimo i bisogni Ok Fiduciosa Fiduciosa La facciamo divertire un attimo Poi Chiedo a lei di Correggere l'acne E poi mettiamo anche Il detergente per il viso Ragazzi Ce ne siamo dimenticati Infatti lo sapevo Che era pelosa Perdonatemi ragazzi Raditi Guardatela Sta povera ragazza Io non guardo mai sim Ma Signori Si devono rasare E per forza Oltretutto qua deve giocare una partita Ok E poi mi deve anche fare I compiti Perché altrimenti Raghi È un guaglio E qua ragazzi Dobbiamo invitare Noah però E qua facciamo Correzione approssimativa Povera Ancora i brufolini Ancora i brufolini Aspettate Eh Non posso più applicare Niente Dobbiamo tenerci l'acne Credo per un po' di tempo Poi comunque Credo ci sia la possibilità Di riapplicare tutto Tanto lei però Sta bene Deve invitare Noah Tipo instant Invita nel lotto attuale Perché ragazzi Credisce i videogiochi Si Eh ragazzi Si Invitiamo Noah Perché comunque Dobbiamo avere una grande relazione Ecco Noah si Così almeno domani Possiamo andare A fare il cartello Per lui E cioè che carina sta roba Non vedo l'ora di farlo Tanto lei ha fatto i compiti Brava papà Eccolo Ciao Rallegra Complimento sincero Altre scelte Romantico Flirta Eccoli Che carini Altre scelte Romantico Dichiarano amore Pubblicamente Spero che questo Non sia imbarazzante Come Oddio no Pare di no Perché una nuova interazione Vedete Ce ne sono nuove Rivela la cotta Flirta No Che fai a letto No no Aspettate Chi di essere solo amici No romantico Altre scelte Flirta Eh la nostra Max Deve 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 Accoccolati Eh che carini Ok Va tutto La bordaggia Odace No Flirta Che carini Sono Mi piacciono Un sacco Eh c'è il primo bacio Dai Flirta Via E tornano giù A flirtare Perdonatemi ragazzi Sono tanto agitati Lei povera Sono Accoccolati Sì ragazzi Vedete L'acne Sì ragazzi Eh questo Dobbiamo Vedere poi Quanto In quanto tempo In realtà L'acne si può Di nuovo correggere Però Mi piace Mi piace Eh Sentimenti acquisiti Intanto io sto facendo Un milione di screen Ragazzi Poi lo faccio andare A via Eh Lo faccio andare A casa Promesso E lei deve anche dormire Però ovviamente Volevo aumentare Un po' la loro relazione Quanto sto chiarissimo Primo bacio Primo bacio Eccolo Voglio vedere se ci sono Interazioni Più profonde Rispetto al primo bacio Vediamo un po' Primo bacio Per la socializzazione Ok Altre scelte Romantico Che di diventare Il fidanzato Bacia sul collo Oppure Romantico Eh Facciamo Io lo farei Che di diventare Il fidanzato No Glielo chiediamo Dopo il ballo Aspettiamo Raghi Facciamo le cose belle Però lo baciamo Anzi no Perfetto E' andato a letto Ragazzi Max è crollata E va bene così Ok E' comprovato Ragazzi che Dopo qualche ora Potete di nuovo Correggere l'acne Eccetera Immaginavo ma E' giusto per completismo In tutto ciò Guardate i bisogni Adesso io spero Dorma E luna Quindi ok Perfetto Passa velocemente il tempo Dovrei riuscire a farla divertire Mangiare eccetera Credo ragazzi L'acne in realtà Sia anche legato A ciò che mangiamo Se mangiamo Schifezze Probabilmente Aumenterà l'acne Credo funzioni così Intanto tutti stanno Dormendo Quindi me ne approfitto Per dormire anche io E andare a scuola Bello bello Riposato Direi che ci può stare Intanto no Non devi andare a far Cheerleading Ragazzi sono un po' troppo Come dire Sono un po' troppo Fissati Con le Cose da fare Ma va bene In realtà Non è un difetto Però sto notando Che vanno spesso I loro sponte A fare le attività Extracurriculari Tanto va a fare così Va a giocare una partita Ditemi che ha fatto i compiti Sta ragazza Sì Perfetto E signori Oggi dovremmo anche Raggiungere Il livello 9 E ci uniamo Perché dobbiamo fare Tutte le cose per il ballo E siamo arrivati Ora però lei Fatemi vedere Ha lavoro fra 22 ore Peccato Volevo vedere un po' La promozione Beh Noi con Max Dobbiamo Allenarci Nel tapirulan E lo facciamo Corsa di resistenza Vabbè Possiamo fare quello che vogliamo È flertante A papà Ora in teoria Vedete che abbiamo Sbloccato nuove interazioni Ovviamente Negli armadietti Che sono decorati Perché questo Ci fa capire Che sono armadietti Di altri sim Quindi cosa abbiamo Sbloccato Questo Lascio un biglietto D'invito Ovviamente lo possiamo fare Per chi vogliamo Tra cui no Oppure Adesso che il ballo È imminente Se io clicco su di lei Vedete che c'è la nuova Diciamo La nuova interazione Crea un cartello D'invito al ballo studentesco Certo che lo faccio Tanto lei ha fatto Scusate Mi so perso A guardare gli armadietti Mo vado Guardate che vado Le voci sono fondate No a chi vuole andare Al ballo studentesco Con Maxine Le accetterà Ci hanno invitato Certo che ci vado E ragazzi Vi volevo far vedere La roba In maniera attiva Ma ovviamente ragazzi Nulla ci vieta Di essere invitati A nostra volta Che bello Dai ragazzi Va bene Ci sto Ci sto Ci sto E quindi qua abbiamo Occhi sognanti Poi qua abbiamo Implicazioni pelose Ci hanno preso In giro Per la peluria Ma come ti permetti Guarda basta Ho 42 minuti Per radermi tutto Come ti permetti A parte che ho la tuta Sotto la tuta Non si vede il pelo Ragazzi Oggi a scuola Si terrà una sessione Di preparazione Che credo farò Perché ragazzi Non abbiamo ancora studiato bene Per l'esame Quindi lo facciamo Comunque io avevo la tuta Come vi permettete Di mettere in dubbio questo Io mi rado Però comunque Però comunque Vai a far lezione Ti prego Ti prego Mi devi diventare Una studentessa Da 9 Max Ti prego So che ha sonno So che ha un sacco di bisogni Ma neanche troppi In realtà Pausa pranzo Ordina del cibo Dicevo Io sotto la tuta Non si vede il pelo Raghi Però effettivamente Con questo completo Si vedeva Quindi in realtà Ci hanno ragione Cioè nel senso Ci hanno ragione Ma dove va a mangiare Ma va a mangiare Qua da sola Ma tu devi fare Interazioni amichevoli Con uno studente Non lo accetto Max Non devi estragnarti Dagli altri Scherza sulla peludica No Devi rallegrarlo Max Come ti permetti Via l'imbarazzo E passa la paura Max Non lo accetto E facciamo anche Chiedi crediti extra Raghi E dobbiamo studiare Per gli esami Ma da qua Ma seri E ditelo subito Ah Ok È giustamente Cambiata La roba Però perfetto Perfetto Abbiamo fatto tutto Lei deve dormire E deve anche divertirsi Però ragazzi Capite bene Che non riusciamo Probabilmente Provo a fare un pisolino Ma ragazzi Di 40 minuti Non credo Che faremo chissà cosa Oltretutto Questa stanza Dove il caffè puzza Ci è preclusa Perché ragazzi Giustamente Non è Degli studenti Diciamo Qua intanto Le ha fatto un piccolo pisolino Brava Max A papà Ora vai in classe Divertiti Che va tutto bene Nel mondo Sta facendo lezione Brava E poi dobbiamo partecipare Alla lezione Sì Lo faccio Perché ragazzi Comunque Dobbiamo ancora studiare Eh ma deve andare a far Cheerleading Oggi Ragazzi Mai una gioia Sempre più fuori controllo Per aver peggiorato L'acne Perché ragazzi Lei è tesa È tesa Perché ha bisogno Di divertirsi È tesa Perché ha sonno E vedete ragazzi Che lei Purtroppo Peggiora la situazione Urca Ma vabbè Eh io la mando Comunque No Ma non metti la lavagna No Fai recati alla preparazione Per gli esami È per forza Raghi Rapporto di fine giornata Oggi Maxine ha consegnato Un buon lavoro Ha ricevuto qualche apprezzamento L'abbiamo fatto l'oro Ma va bene Ricordatevi che se volete Degli studenti bravi Dovete impegnarvi Immagino che questo Voglia dire Questo vuol dire Che il 9 Lo prendiamo domani Tanto lei sta facendo questo Ma io la manderei A cheerleading E ragazzi Ora c'è il caricamento Ci vediamo a casa Direttamente Dopo la lezione Vediamo un po' Cosa succede E lei ovviamente È È Deve allenarsi duramente Raghi Anche perché Capite bene Dobbiamo aumentare questo Il 9 Ragazzi L'abbiamo sfiorato Quanto Mirode Sta cosa E intanto Tom Ha preso un po' Di dindini 878 Raghi In tutto ciò E qua comunque Uh Spedisce all'acquirente M'erò scordato di spedirlo Ok Comunque restiamo Molto poveri Io ve lo dico E qua possiamo fare la vendita Sì Su social banni Sì Nuovo post No scherzavo Vorrebbe che raggiungessi All'elenco dei tuoi contatti Tom Mio marito Abbiamo anche le richieste È certo raghi Ovviamente quando voi Andate a conoscere Sim Capiterà che vi chiederanno Di diventare amici Sui social E lei deve dormire Lei deve proprio Proprio dormire La nostra Max Vado ad occuparmi Un po' Dei bisogni Noa Kane vuole fare Un salto di qualità Maxine diventerà La sua fidanzata Nel senso che E se io di Perché io me l'ero studiata Dopo il ballo Sarebbe stato più romantico Vabbè ragazzi È una serie review Quindi facciamo Quello che capita Sì Facciamo così Max Noa è diventato Il fidanzato Va bene Magari Nell'explay Di Davide e Penny Eviterò A discapito Del fatto che La relazione Magari si inceppa Perché ragazzi Questa è una miniserie Quindi in realtà Va bene il fatto Che vada un po' Spedita Perché devo farvi vedere Tutto e ci sta Però Nel vostro Resplay Probabilmente Sarebbe più carino Chiedere di diventare Fidanzati dopo Sotto la ruota panoramica Insomma M'er'ho immaginato Qualcosa di un po' più Trasgri Detto ciò Vi faccio vedere Però Orientata agli obiettivi Raggiungi livello 3 di un'attività Extrascolastica Sì ragazzi Come vi ho detto prima Siamo a 2 di 3 Ottieni e mantieni un 10 Partecipa alla giornata Delle carriere Questo lo faremo Molto a breve E qua ragazzi Altre scelte romantico Potremmo anche fare Scappatella Scambia gli anelli Di fidanzamento Non lo Ecco Ok dai Questo ce lo teniamo Per la ruota panoramica Raghi eh Intanto il papà però Che in questa serie Non ha fatto nulla Fa il bagno Ah mi sembrava sporca Mi sembrava sporca La vasca Invece era l'ombra Ho detto Sai che c'è Pulisci la vasca Niente Volevo fargli fare Qualcosa di carino Però anche lui Ha le sue paure Mi sono scordato Di fare Ritrova la passione Mentre anche lei Sta bene Deve venire qua però E deve ritrovare La passione Per il lavoro Anche lei Perché ragazzi È un guaglio Ce l'ha fatta Nuove sfide E qua però Facciamo Cerca Di avere un figlio Con Tom Lei ne ha preso L'interesse Di fichi fichi Di Tom Ok Quindi ragazzi Ovviamente Questo è legato All'update Sì io vado qua Su Tom Mi dice Uomo d'affari Va bene Fichi fichi Con donne e uomini Vabbè però In realtà Va bene tutto Però in realtà Devo fare fichi fichi Comunque Tom Davanti al nostro Genero Davanti al nostro Genero Davanti a tutti Noi facciamo Tutto Fai fichi Ti prego Ma lui fa il tifo Per noi Ma come ti permetti Il mio genero Ragazzi si è messo a fare Il tifo Per i fichi fichi In realtà Per un adolescente Vedere ste cose Cioè nel senso È come se L'avessimo appena Regalato l'abbonamento A un sito Un po' gnè gnè Però no Tu non devi vedere Ciò che facciamo Vai a casa Senti amico Vai a casa Fidati di me Fidati di me a papà Fidati di me Ma te lo dico Proprio col cuore Perché già In teoria Siamo i tuoi suoceri Il fatto che tu Vieni cosa succede Fai un figlio Avete voglia Uh Le ha fatto il massaggino Io spero non resti incinta Non volevo un bambino Però lei ha voglia Di maternità Ed è un desiderio E lo sto facendo Lo so che è brutto Ma lo sto facendo Per far così Ragazzi Voi direte Potevi anche Far qualcosa di diverso Tipo rendi felice Un altro sim Sarebbe stato più facile Però In realtà Volevo Volevo Non ce la facciamo Non riusciamo a toglierci la paura Fatemi vedere i primi vitalizi 370 Ok Li togliamo Via la paura Va Ok E lui intanto Visto che È così da tanto Te Raditi Fino alla lunghezza desiderata Papà Oh Torniamo Un baldo giovine Finalmente Vediamo un po' E quanto E quanto Mettenerello Ha perso Dieci anni Senza barba Ok Detto questo Bevila E ovviamente Ragazzi È una Quindi noi dobbiamo decidere Quale delle due rimuovere Io farei paura Dei sogni realizzati Perché l'altro Ragazzi Ben o male Ritrovando la passione Prima o poi Lo facciamo Vedete ne abbiamo tolto una Se io poi vado a fare Ritrovo la passione Dovrei risolvere tutto Qua intanto C'è da mangiare È avariato Scherzavo Qua intanto Facciamo Qualcosa da mangiare E in teoria però ragazzi Mi dovrebbe Andare a lavoro Fra tre ore Ok Quindi oggi Promozione ragazzi Oggi ragazzi Diventiamo macro influencer Starete notando anche Che questi video Sono un po' più lunghi Del solito Però ragazzi Spero apprezzerete questo Perché Ho deciso di fare Un full immersion Saranno pochi episodi Ma lunghi Non so bene quanti In realtà Ho preventivato Una decina di episodi Comunque Dieci ore di gameplay Non sono poche Per farsi un'idea Più o meno Di ciò che c'è dentro Quindi in realtà ragazzi Spero apprezzerete Fatemi sapere qua sotto Tutto nei commenti Ragazzi Lasciatemi un feedback Ho bisogno Del vostro supporto E soprattutto Ho bisogno di sapere Che ne pensate Perché Ragazzi Bellissimo sto look Comunque io ve lo dico Lei deve andare A lavoro Max mi devi prendere Sto 9 a papà Non possiamo fare altro E lei era scomodo Fa niente Max Non importa Dicevo Visto che Non dobbiamo Invitare nessuno Visto che Non dobbiamo Lasciare il bigliettino Visto che Siamo stati invitati Al ballo di fine anno Ovviamente io però Devo capire Non so bene Se effettivamente Questo conta Ma in teoria Si Devo capire però Dove mi dice Che io andrò al ballo Quello lo devo capire Vabbè intanto Qua però apri i social Lei può Fa niente Ah intanto La mamma Vuole diventare Vabbè si Ok Ok Qua intanto Vado a fare Così a tutti Ok Ovviamente dovete Anche vedere Le reazioni Io le sto mettendo A caso Comunque Lei si trova Al lavoro E voglio prendere La promozione Lei dicevo Ragazzi Non la mando A scuola Per esempio O meglio La mando a scuola Ma non la seguo Per esempio C'è fatto Che oggi è giovedì Quindi domani La seguiamo Venerdì Perché ragazzi La seguiamo Perché ovviamente Venerdì ci sono gli esami Quindi io la mando a scuola Intanto ragazzi Porca miseria Ma che c'è L'umidità A casa Ragazzi Ma quanta umidità C'è in sta casa Raditi Ha di nuovo I basettoni Oh 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 Lei ne è stata promossa Mega Simfluencer Ha anche ricevuto Novecento Grazie Ad esistere Il prossimo turno È venerdì alle cinque Non ha delitto a ferie E fatemi vedere Ok Come mega Influencer Lei ne trasmette Alle masse Negoziare accordi E ingrandire l'attività È ormai inevitabile Che sia il momento Di procacciarsi Qualche investimento E questo è da capire Carriera Pubblicizza l'attività Fai una ricerca Sul piano d'impresa Controlla i follower Crea una recensione Tecnologica Sì ragazzi Dobbiamo fare Altre e nuove Interazioni Ragazzi sì Intanto Paura dominata Per Giustamente Credo Tutte e due Anche il lavoro Perché la sua paura Era quella di non realizzarsi Invece con la promozione Ce l'abbiamo fatta Quindi a volte Ci sono interazioni A volte Sono delle azioni A volte Sono delle situazioni Che fanno Cambiare i desideri E paure Inarrestabile Per l'esercitazione Va bene E connessione profonda Sì ragazzi Direi che mando Max a scuola Cerco di prendere Il 9 Vediamo un po' Cosa succede Perché domani Giorno di esami Quindi vediamo un po' Per questo video però Io vi dico che è tutto Vi ringrazio per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Vi ricordo anche che qua a schermo Trovate il canale Se volete iscrivervi E anche vi ho consigliato Io come sempre vi do L'appuntamento Alla prossima Vi dico Ciao a tutti